ha lasciato la superliga portoghese per scendere in C1 proprio perché ha un grande rapporto con Mandorlini e ha sposato anche il progetto Padova partiti ecco ricordiamo il Padova incompleta tenuta bianca abbandona i tradizionali colori bianconeri verticali la massese per maglia rossa e pantaloncini neri Cristian Taverna diciamo ancora dell'arbitro che dirige questa sfida quest'anno ha diretto 14 gare attenzione intanto c'è subito il vantaggio del Padova proprio dopo 27 secondi addirittura ha bruciato la difesa della massese alla prima azione Padova in vantaggio